C'è stato un caso molto particolare, sono stato espulso la mattina e riammesso il pomeriggio. In fondo non sono così cattivo. Ma mi spieghi meglio, quindi perché io avevo letto vedere è stato espulso. Sono stato espulso, però avevo delle buone ragioni per far rivedere la mia espulsione e il Presidente della Camera ha deciso di riammettermi in via eccezionale. Fa un po' parte della politica, ma io sono stato espulso perché ho fatto il gesto delle manette come Morigno e il Presidente mi è espulso.